Le famiglie che ad oggi acquistano prodotti biologici non solo di carattere alimentare sono ormai 7 su 10 e negli ultimi mesi la percentuale è salita dal 69% al 74% e di conseguenza a crescere è anche il fatturato delle aziende salito dal 2014 ad oggi del 15% un giro d'affari di oltre 2 miliardi di euro numeri impressionanti se pensiamo che nel mondo economico aziende che incrementano già dell'1,50% anno su anno sono delle aziende leader di mercato una testimonianza di quanta attenzione e cultura ci sia dietro questi numeri sono le oltre 30 mila presenze dichiarate dagli organizzatori per Biosalus 2016 il festival nazionale del biologico e del benessere olistico che da 10 anni si tiene ad Urbino e che quest'anno ha visto coinvolti negli spazi della data anche il paese ospite, il Tibet tra le novità sicuramente quest'anno molto importante è stata quella dedicata ai bambini per cui abbiamo realizzato un vero mini festival per bambini e famiglie e un'altra cosa molto importante e ben riuscita da sottolineare per questa edizione 2016 è l'allargamento del festival proprio fisicamente anche presso l'edificio data conosciuto anche come l'orto dell'abbondanza oppure anche conosciuto come l'ex stalle del duca di Montefeltro per cui il Biosalus è cresciuto, siamo molto contenti, il pubblico ha apprezzato per cui tutti gli ingredienti per una riuscita decima edizione naturalmente cibo e cura della persona vanno a braccetto e sono le due facce della stessa medaglia una filosofia di vita ed è per questo che a Biosalus, nello splendido collegio Raffaello trovano posto ogni anno oltre 100 espositori di prodotti biologici e filoterapici e anche conferenze e dibattiti sulla medicina naturale questa influenza della cultura orientale sulla cultura occidentale ci ha dato una smossa e da lì si è partiti proprio per cercare di cambiare, di iniziare un cambiamento e il volano sta stando sempre più veloce in questa direzione grazie